Buon salvone appassionati di PES, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch, ed oggi vedremo come aggiornare la versione PC di PES all'ultima versione della patch che è uscita per PlayStation 4, ovvero la V9, creata dal team PESFAN, che aggiusta i loghi e quant'altro. Andiamo passo passo, seguite bene i passaggi perché la situazione è completamente diversa rispetto alla prima patch che vi ho fatto vedere per PES versione PC. Prima di iniziare devo fare due ringraziamenti. Il primo, chiaramente, è a FedeJuwe95 che ha creato per noi PCisti questa versione della patch e poi a Manuel, che è un ragazzo che mi segue su Twitch, che mi ha detto Ulculus, guarda che è uscita una nuova patch per PC, valla a vedere. Bene, adesso possiamo iniziare, vediamo come si installa questa patch per PC. Per prima cosa devo andare a cancellare una cartella che si trova in documenti, quindi non dove avete installato il gioco, ma andiamoci passo passo. Documenti, Konami, eFootball PES 2020 e poi dobbiamo pigiare su questa cartella piena di numeretti che vanno dal 76 al 31. Clicchiamoci due volte, qui troviamo la cartella Save, clicchiamo dentro la cartella Save. Qui dobbiamo andare a cancellare tutti questi file che sono qui dentro, tranne due che io prenderei e metterei da parte. Il primo è Graphics, quindi noi facciamo taglia e incolla e lo mettiamo sul desktop. Poi dobbiamo cercare il file System, quindi scriviamo SY e troviamo il system. Ora andiamo su taglia e mettiamo incolla qui sul desktop e adesso possiamo andare a cancellare tutta questa cartella che si chiama Save. Andiamo quindi col tasto adesso del mouse su Save, poi clicchiamo su Elimina e eliminiamo la cartella Save. Attendiamo che il processo termini e abbiamo terminato la fase 1. Ora dobbiamo andare a scaricare una nuova cartella Save che dobbiamo mettere qui, proprio in questa posizione dove abbiamo cancellato la vecchia cartella Save. Ritorniamo adesso nella pagina internet di PES Team. Non vi preoccupate, il link ve lo lascio in descrizione. Andiamo al passo 2, ovvero dobbiamo scaricare il nuovo materiale da Mega. Quindi clicchiamo sul link Mega, attendiamo che si prepari il link, ci viene chiesta una trave di decrittazione. La chiave la trovate qui e questa qui, quindi facciamo copia e poi facciamo incolla, tasto adesso del mouse e poi sinistro, decripta e partirà finalmente il vero file che sarà questo qua, pesfan.itfov9pc. Andiamo su scarica e andiamo chiaramente a scaricare il materiale. Siccome sono quasi un giga di materiale, 898 MB, io adesso fermo tutto e l'ho già scaricato e vado al passo successivo. Quindi dopo aver scaricato questo materiale, voi cosa fate? Andate nella cartella dove normalmente scaricate il materiale da internet, che per me è la cartella Download. Andiamo nella cartella Download, eccola qui, e adesso chiaramente abbiamo un file che deve essere prima decompresso. Quindi tasto adesso del mouse, andiamo su estrai file in pesfan.itvof9, chiaramente vi serve un programma tipo WinRAR, che è gratuito per poter fare questa estrazione, e clicchiamo su estrai file. A questo punto attendiamo, che chiaramente il processo termine ci vorrà qualche secondino, e abbiamo finalmente una cartella che si chiama tale e quale, sempre pesfan.itfov9pc, ci clicchiamo dentro, e abbiamo a che fare un'altra volta con una cartella che si chiama Save. A questo punto andiamo a copiare, tasto adesso del mouse, poi sinistro su Copia, andiamo in Documenti, poi andiamo in Konami, poi andiamo su eFootball PES 2020, poi andiamo su questa cartella piena di numeretti, ci clicchiamo due volte, e poi qua facciamo Incolla, quindi tasto adesso del mouse, e poi tasto sinistro su Incolla, e attendiamo che il processo termini, dopodiché apriamo questa cartella, ci clicchiamo due volte, e adesso andiamo a prendere quei due file che abbiamo messo da parte, ovvero Graphic e System, quindi tasto adesso del mouse, Copia, tasto adesso del mouse, sinistro su Incolla, e abbiamo terminato il processo, adesso è tutto fatto. Dopo aver rispettato i vari punti per poter installare la patch anche su PC, andiamo a valutare se effettivamente i cambiamenti sono stati portati in atto o meno, andiamo su Benvenuto, andiamo su Partita Locale, e ci andiamo a fare una bella partita tra il Brescia, che normalmente se non mi sbaglio si chiamava Brutti, una cosa del genere, e verifichiamo se effettivamente è cambiato o meno qualcosa. Come potete notare il Brescia si chiama Brescia, non si chiama Brutti, ci sono gli stemmini originali delle squadre, quindi effettivamente è cambiato tutto, e allora a questo punto mettiamo Brescia, e poi mettiamo una squadra di Premier, che pure erano sbagliati i primi nomi lì, e mettiamo, vedete ci sta il Barmout, non ci sta il Barmout B, una cosa del genere, si chiamava RB forse, c'è il Crystal Palace, c'è l'Everton, c'è il Manchester, ci sono tutti gli stemmini ufficiali, non ci sono più brutte cose, e facciamo Brescia-Watford, e andiamoci a vedere anche se lo stadio è cambiato o meno come nome. Stadio Rigamonti, effettivamente è stato corretto tutto, anche con quest'ultima versione della patch, e siamo quindi in grado di poter giocare al nostro PES, nella maniera migliore possibile, con tutte le cose a posto, i loghi, i nomi delle magliette, i nomi degli stadi, finalmente abbiamo anche noi l'ultima versione della patch, che hanno i giocatori della PlayStation 4. Non mi resta altro da fare che salutarvi, buon salve a tutti, e al prossimo episodio di PES che vi ricordo, inizieremo con la prossima carriera, momenti, siate pronti, buon salve a tutti!